fatto parte, in primissima linea, del circus della Formula 1 per oltre tre lustri, cogliendo anche un settimo posto nel 1991 nella classifica costruttori, grazie anche alla connection con la Ferrari, senza dimenticare la grande amicizia con il compianto ed indimenticato Ayrton Senna. Parliamo di Giancarlo Minardi, imprenditore faentino, che con il suo team Minardi dal 1985 fino ad inizio anni 2000 è riuscito a creare una realtà motoristica totalmente italiana, capace di confrontarsi con i mostri sacri della Formula 1 dell'epoca. Minardi oggi è passato al motorsport, divenendo consulente supervisore AC Sport e in questi giorni a Gubbio per ricoprire l'incarico di presidente Commissione Velocità in circuito al Trofeo Fagioli per una manifestazione che segna la rinascita delle corse in salita. Mi fa piacere rincominciare questa stagione dove mi hanno ancora una volta coinvolto nella Commissione Salita. Ritengo che sia la seconda gara di questo campionato che purtroppo in questo anno particolarmente difficile ci ha visto molti impegnati nei protocolli, nel cercare di ricostruire un calendario che purtroppo ad aprile e maggio sembrava precluso. Devo dare un plauso all'organizzazione perché il Trofeo Luigi Fagioli è comunque una tappa importante per il motorsport e per l'AC Sport. Direi che il Trofeo Luigi Fagioli è una delle gare meglio organizzate e quindi ho ritenuto opportuno e corretto e giusto a dare il mio supporto anche solo fisico e verbale a questa manifestazione che certamente come risposta da parte dei concorrenti è stata ottima e quindi speriamo in un weekend bello, alla luce del sole, al caldo però con tanta sportività. Formula 1 e Motorsport sono due pianeti lontanissimi tra loro ma per Minardi probabilmente oggi quella passione che è il vero motore che alimenta il mondo delle corse in salita è assai superiore ad una Formula 1 assai diversa da quella vissuta da Minardi quando erano i proprietari, i veri Deus Ex Machina delle scuderie e non i manager come accade ai giorni nostri. Forse gli altri dovrebbero riacquistare quella passione che nella salita è rimasto il DNA principale forse in Formula 1 anche perché sono venuti a mancare i proprietari oggi il Circus è gestito da manager quindi i manager oggi ci sono, domani non ci sono e credo che l'approccio alla gestione di questo mondo un po' particolare sia diverso dai tempi miei quando appunto i proprietari alla sera andavano a dormire e studiavano cosa fare il giorno dopo oggi forse i manager questo non lo fanno.